Ciao a tutti, bentornati in uno dei nostri vlog itineranti, questa volta dove vi portiamo? Questa volta siamo nella zona di Piramide, quindi vi faccio vedere un po' la Piramide Cestia, Porta San Paolo e quelle che ci sono dietro di noi sono le mura. Sì, devo dire che è piacevole fare questi vlog itineranti con questo caldo, almeno scappiamo un attimino alla redazione, per chi non ci ha seguito negli ultimi vlog appunto stiamo girando le zone intorno alla nostra redazione, quindi vi stiamo facendo vedere un po' il quartiere Ostiense, ma solo l'inizio perché poi vi porteremo anche in tantissimi altri posti tutti da scoprire. Ovviamente la nostra redazione si trova a Roma, per chi magari è uscito qui da altre parti d'Italia. La prima novità di cui vi parliamo sempre del mondo delle Webster è il programma di Clio. Finalmente è tornata su Real Time con un nuovo programma e dato che è diventata da qualche mese ormai mamma, ha deciso di dedicare il suo nuovo programma proprio alle mamme, quindi con delle pillole di 5 minuti aiuta le mamme a essere comunque belle nonostante gli impegni e il poco tempo. Invece per quanto riguarda insomma la parte musica di New Stars News, parliamo dei vostri amatissimi Benji e Fede, che hanno fatto un'operazione veramente molto bella e significativa, ovvero sono andati nel Policlinico di Modena e hanno coinvolto un gruppo di ragazzini, li hanno divertiti, li hanno intrattenuti, li hanno emozionati, insomma li hanno fatto dimenticare un po' i problemi della vita e tra l'altro li hanno anche coinvolti nella realizzazione di quello che è il loro album, Siamo Solo Noise, perché nella traccia che si chiama Da Grande, noi sentiamo proprio un gruppo di bambini insomma che esprimono loro sogni e quelli sono proprio i bambini del Policlinico di Modena. Quindi è un'iniziativa bellissima che trascende la semplice musica e tra l'altro insomma Benji e Fede si sono definiti arricchiti da questa esperienza, hanno detto che vogliono tornare a trovarli, non appena appunto finirà il Siamo Solo Noise Tour. Sempre rimanendo in tema un po' musica, questa settimana tutte le webster si sono veramente svizzarrite con l'uscita delle loro hit festive. Vi abbiamo raccontato in un articolo un po' tutte quelle che sono le webster che hanno realizzato una canzone, andando da Medeo Preziosi, Owe De Dose, Fino Asciate che ha realizzato una canzone che rimasta in tendenza su YouTube Italia per molti giorni. Poi anche Angelica Mastera ha realizzato la sua prima canzone in assoluto, quindi non potete perdervela. In un altro modo passo. Infine anche i Pantella sono realizzato la loro hit in collaborazione con Giulie, che ha un balletto che siamo sicuri vi rimarrà in testa. Invece, probabilmente, fra gli YouTubers famosi, ma ancora non famosissimi, abbiamo scoperto, in realtà loro comunque sono particolarmente già conosciuti, i Trentenni, che è un canale YouTube veramente divertente, la sento anche vicino a me questa cosa, perché questa data, insomma, questi Trent'anni incommono, perché fra meno di 20 giorni anche io, insomma, abbandonerò i mitici eventi, tu eri a Lorz, ancora giovanissima, quindi ancora per almeno 5 anni non ti potrò prendere in giro. Però comunque è un canale molto divertente perché racconta, insomma, tutte le difficoltà, ma anche le ambizioni, ma anche le sfide, insomma, di quest'età, insomma, in cui si abbandonano un po' la libertà, la spensatezza dei 20 anni e si passa a quelli che sono gli impegni veri e propri dei 30, però con il fine di divertire il pubblico ma anche di dimostrare, insomma, che a 30 anni possiamo ancora fare tantissime cose. Ecco, capito, Lorz? Inoltre io vi inviterei a seguirci anche su Instagram, perché ad esempio questa settimana abbiamo preparato qualcosa di speciale che vedrete a breve e su Instagram nelle storie vi abbiamo dato un po' un backstage anticipazione. E questo è quanto per questo vlog di New Star News e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!